Siamo dispiaciuti soprattutto per tutti voi che sono venuti tanti, adesso non è una mano, però siamo dispiaciuti che non siamo riusciti a portare a casa tre punti. Però già la settimana inizia oggi, lavoriamo duro e credo che portiamo tre punti lunedì. Noi giochiamo sempre a vincere per quello, cerchiamo di fare tutto, speriamo che sia la nostra giornata, che andrà tutto bene. Poi portiamo a casa tre punti che sono molto importanti per noi. Giocare così è sempre pericoloso perché già c'è tutta pressione, tutto per quello. È pericoloso però noi cerchiamo di stare tranquilli, di essere concentrati, poi giochiamo come sappiamo, sempre fa il gioco e giochiamo sempre per vincere, come dice il mister. Anche venerdì ti facciamo, hanno dato un grosso mano e speriamo che lunedì vengono in tanti, poi così ci danno e ci danno mano. Poi se ci sono anche loro possiamo fare tutto insieme, perché ogni volta che vado in campo è sempre c'è in testa di fare gol. Però peccato che non vengono, però speriamo che vengono adesso, che saranno molto importanti per noi. Ancora mancano tre partite, che mancano tre punti che ci serviamo. Adesso sto pensando di fare bene, di riuscire a portarsi solo in Sirea, quello è il mio pensiero adesso. Il futuro è arrivare dopo. Juve è sempre un sogno, di giocare con uno di questi grandi club. Però non dico che non possiamo fare bene là, è una questione di lavorare e migliorare sempre. Grazie a tutti.